Edizione della sera di Ora Tg. Partiamo con la pagina economica. Sarà il gruppo di Ross Pelligra a riconvertire l'ex Blue Tech di Termini Merese. La holding del presidente del Catania si è giudicata la gara. Una giornata importante, ha commentato il ministro Urso, perché è simbolo di una politica industriale che finalmente il nostro paese può esercitare a pieno. Vediamo. Adesso è ufficiale. La Pelligra Holding Italia, che fa capo all'italo-australiano Ross Pelligra, presidente del Catania Football Club, si è giudicata l'assegnazione dell'ex Blue Tech di Termini Merese. A renderlo noto al tavolo sulla riconversione del sito tenutosi a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato il ministro Adolfo Urso. Il piano, ritenuto affidabile dai commissari straordinari, seguirà la fase formale, prevede l'assunzione di 350 lavoratori attualmente in cassa integrazione con garanzia di impiego per almeno i prossimi due anni. Gli altri dipendenti potranno beneficiare della NASPI, nuova assicurazione sociale per l'impiego per il prossimo biennio, ed un successivo intervento di accompagnamento alla pensione anticipata. L'idea è quella di creare un grande parco industriale e si procederà anche al rilancio di tutta l'area industriale di Termini Merese. Il porto diventerà il più grande scalo marittimo commerciale e logistico di tutta la Sicilia occidentale, dove verranno spostate da Palermo tutte le attività del gruppo MSC. A questi due asset di sviluppo se ne aggiungerà un terzo perfettamente integrato, che sarà l'Interporto. Un passo importante ha commentato il governatore della Sicilia Schifani, con la regione ha aggiunto l'assessore alle attività produttive Edita Maio, presente all'incontro, da sempre al fianco dei lavoratori. Così il ministro Urso al termine della riunione. È una giornata davvero importante per Termini Merese, per la Sicilia e certamente anche per l'Italia, perché è il simbolo di una politica industriale, che finalmente il nostro paese può esercitare a pieno. Un investitore che si assumerà la responsabilità di reindustriale in quello che sarà un parco industriale dell'area dell'ex Fiat Bluetech e che assumerà buona parte dei lavoratori ancora in cassa integrazione. Inserito in un polo, in un progetto, in una strategia di sviluppo dell'interaria, che avrà tre fattori tra loro collegati, appunto il parco industriale, con accanto il porto commerciale e logistico. A questi due asset di sviluppo si ne aggiungerà un terzo, perfettamente integrato, che sarà l'interporto di Termini Merese. Il tavolo era stato convocato dopo che lo scorso 28 febbraio si erano chiusi i termini per la presentazione delle offerte. Oltre al gruppo Pelligra hanno partecipato il consorzio Sud in partnership con l'inglese Shara Holding e Artemar di Termini Merese, interessata però solo ad una piccola porzione dell'area di 44 ettari. Condanne che vanno dai 2 ai 10 anni di reclusione sono stati chiesti a Catania, dai pubblici ministeri e ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale. Nella requisitoria del processo, secondo troncone dell'inchiesta Università Bandita, su presunti concorsi truncati all'Ateneo di Catania per i 51 imputati, sono state chieste 39 condanne, 12 assoluzioni. Decine i capi di imputazione che riguardano corruzione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, l'inchiesta è partita da un'indagine della Digos, coordinata dalla Procura, quando scottò nel 2019 portò alle dimissioni dell'allora rettore Francesco Basile e la programmazione di nuove elezioni. Secondo quanto emerse dalle intercettazioni sarebbero stati predisposti a tavolino una serie di bandi e di assegnazioni di cattedre. In questa indagine è finito anche l'ex rettore Giacomo Pignataro, oltre a diversi direttori di dipartimento. I pubblici ministeri hanno chiesto la condanna. A 10 anni e 8 mesi per Basile, a 4 anni per Pignataro. In un secondo filone sono rimasti coinvolti anche l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco e l'ex assessore comunale Orazio Licantro. Per entrambi sono stati chiesti 3 anni e 6 mesi. Tra gli imputati anche l'ex procuratore di Catania Enzo Dagata, 3 anni, una sua figlia docente universitaria, 5 anni, di reclusione tra le altre richieste, Giuseppe Barone, 4 anni, Filippo Drago, 7 anni e 10 mesi. A Palermo adesso, dove si indaga sull'omicidio del Gambiano di 24 anni, morto dopo essere stato ferito con una coltellata alla torace. Chiedono verità e giustizia agli amici di Kitimsi se il giovane Gambiano deceduto in ospedale al Policlinico dopo essere stato gravemente ferito con una coltellata inferta all'altezza del torace. La morte del 24enne, partito dall'Africa, è arrivato nel 2017 a Palermo al momento è un giallo. La polizia sta indagando, gli agenti del commissariato Reto e gli uomini della squadra mobile stanno seguendo più di una pista a non aiutare la mancanza di testimoni oculari e di registrazioni di telecamere e di videosorveglianza nella zona dove si presume sia avvenuto il fatto. Non si conosce ancora il movente che si scela dietro all'omicidio. Ci sono però delle ipotesi come la vendetta per un debito di droga. L'aggressione è venuta in centro storico con molta probabilità tra l'albergheria e Ballarò a due passi da Porta Sant'Agata la sera del 4 marzo scorso. Secondo alcune voci nel quartiere il giovane sarebbe stato prima investito di proposito con un mezzo e poi ferito con un coltello o un taglierino. Kitim era padre, conviveva insieme a una donna con la quale aveva avuto un figlio, il secondo era in arrivo. Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo buono, non violento, ma capace di mettersi nei guai anche per via dei suoi problemi di tossicodipendenza. Il 5 marzo scorso il giovane si è recato in ospedale per una brutta ferita inferta con un'arma da taglio. I medici si sono presi cura di lui e hanno segnalato il fatto alla polizia che è intervenuta al pronto soccorso per ricostruire i contorni della vicenda. Il 24enne però non sarebbe stato collaborativo, alle forze dell'ordine non avrebbe fornito elementi utili alle indagini, forse aveva paura di denunciare. Dopo la morte del Gambiano la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per omicidio disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e della salma che è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia. Si attendono i risultati dell'esame autoptico che dovrebbero chiarire le cause della morte. Intanto la comunità gambiana chiede più sicurezza. Domani pomeriggio in piazza Sant'Agata è prevista una manifestazione. Rompiamo il silenzio intorno alla morte di Kitim per rivendicare che la verità su quello che è successo esca, scrivono gli organizzatori. Ancora sbarchi a Lampedusa, riparte in maniera corposa il flusso di migrazione dalle coste africane verso l'Europa. 27 migranti ieri pomeriggio, dopo essere stati avvistati a bordo di un barcone a 50 miglia dalla costa di Pozzallo, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera Italiana. Poche ore dopo, in serata, altri 114 migranti, di cui sei donne e una bambina di 21 giorni, provenienti dalla Siria e dal Bangladesh e partiti dalla Libia, sono stati tratti in salvo dall'ONG Mare Ionio, che li ha trasportati nella struttura portuale. A rendere noti gli ultimi sbarchi avvenuti nel Ragusano è stato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Siamo alla vigilia di un'altra stagione estiva che si preannuncia molto complicata e difficile. Una sinergia fra tutte le forze politiche sarebbe un bel segnale, non solo per l'Italia, ma anche per l'intera Europa, le parole del primo cittadino di Pozzallo. A Lampedusa, intanto, proseguono gli sbarchi. Nelle ultime 24 ore sono quasi 1000 i migranti approdati sull'isola, 21 complessivamente gli arrivi nel fine settimana. Tra questi sei gruppi, partiti da Tunisia e Libia, erano composti da un minimo di 17 ad un massimo di 77 persone, originarie del Bangladesh, Egitto, Pakistan, Siria, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Niger, Senegal e Sierra Leone. Dopo la bambina di 15 mesi dispersa in mare la scorsa settimana a seguito di un naufragio, si registrano ancora tragedie nelle acque del Mediterraneo. Un gruppo di 51 migranti, partiti venerdì sera da Sfaz su una barca in ferro lunga 7 metri, è finito in mare a largo di Lampedusa durante il soccorso da parte della Guardia Costiera. I militari sono riusciti a salvare 50 persone, fra cui 11 donne e due minori. Tuttavia manca all'appello un giovane di 15 anni, che al momento viene dato per disperso e per il quale sono scattate subito le ricerche. Inclusione con l'obiettivo di assicurare ospitalità straordinarie ai migranti, offrendo loro nuove prospettive, parte a Catania, un progetto che è pilota in tutta Italia e che è stato finanziato anche con fondi ministeriali. Assistenza globale, come concentrandosi su misure di ospitalità straordinarie esterna, oppure approcci innovativi all'accoglienza in famiglia, oppure ancora favorendo la coabitazione sociale all'interno di strutture di co-housing. Tutto questo e anche altre welcome to Catania. Un programma promosso dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, voluto dalla Comune gestito dal Consorzio Umana Solidarietà, in partnership con Terra del Sole, La Rinascita, Associazione Lavoratori Stranieri MCL Sicilia, Comunità di Sant'Egidio. È un'iniziativa che vuole essere esempio del potenziale dell'azione sociale e che mira a fornire sostegno straordinario soluzioni abitative alle crescenti vulnerabilità affrontate dai titolari di protezione internazionale. Uno progetto innovativo nel campo, tra l'altro, dell'inserimento abitativo, migliorando i processi di aiuto sociale preesistenti. L'obiettivo principale del progetto è quello di potenziare i percorsi di autonomia dei migranti fuori dal sistema di accoglienza e integrazione. In questo contesto si inserisce il lavoro dell'ALS che vuole mettere al centro dei percorsi di autonomia il tema appunto dell'occupazione, perché la vera integrazione si realizza soltanto attraverso il lavoro. Noi valorizzeremo alcuni strumenti che abbiamo ideato, penso al vocabolario del lavoro straniero, e in particolare alla piattaforma Myrans.work, una piattaforma di proprietà del Consorzio Umana Solidarietà, una piattaforma che realizza il matching tra la domanda e l'offerta di lavoro straniero. Inclusione, si diceva. Catania merita, Catania trova una formula intelligente e fa a rete intorno alle belle possibilità anche premiate dal Governo nazionale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sant'Egidi aderisce gratuitamente a questo perché trova in Welcome to Catania uno strumento per consentire a tanti migranti che rimangono fuori dalla rete SAE, dall'accoglienza e quindi anche esposti a tutti i rischi che facilmente capiamo, di trovare caso e un'opportunità di integrazione e quindi convintamente abbiamo sposato il progetto. Quello dell'immigrazione è uno dei temi caldi delle diverse amministrazioni cittadine succedute nel corso degli anni. Un percorso migliorativo, quindi un'inclusione maggiore. Come dicevo prima, l'inclusione paga, l'esclusione invece costa. Catania è una città inclusiva, una città che dà, una città che accoglie e che darà opportunità. Il progetto mira proprio a questo, a dare opportunità, maggiore inclusione e maggiore opportunità. Una ragazzata che avrebbe potuto generare un vasto incendio in questo stabile abitato da diverse famiglie. È accaduto la scorsa notte al Civico 7 in Via Cervo. Siamo ad Acireale, qui in nottetempo. Un gruppo di ragazzine ha piccato il fuoco in alcuni contenitori della spazzatura, compromettendo il grosso passante stradale del gas che rifornisce il quartiere. La conduttura in ferro ha fortunatamente retto alle elevate temperature. Il servizio pronto intervento gas della SOGIP, società di gestione e distribuzione, ha riparato il guasto e messo in sicurezza la giuntura esterna danneggiata dal fuoco sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. E a proposito di carabinieri, ci spostiamo di appena qualche chilometro da Acireale. Andiamo ad Acireale, tentato furto la notte scorsa. I danni della Caritas, Maria Santissima, dell'indirizzo, delle chiesette filiali della comunità Maria Santissima della Catena, ignoti, hanno provato a introdursi all'interno della Caritas, dove erano custoditi pacchi alimenti che verranno distribuiti nei prossimi giorni agli indigenti. Non sono riusciti ad entrare all'interno della struttura, hanno rotto il vetro, poi sono fuggiti via. Indagano i carabinieri della compagnia di Acireale. Una rissa nel cuore di Catania, parliamo della rissa al Bar Europa, proseguono le indagini della polizia per individuare i responsabili. Di fatto non vi è alcuna segnalazione di intervento medico diretto relativamente ai protagonisti della rissa, dunque si prova dalle immagini delle videocamere di risalire alla dinamica e perché e alla individuazione dei responsabili. I poliziotti del commissariato centrale della questura di Catania stanno visionando le immagini di videosorveglianza sia di Corso Italia che di Piazza Europa, nel tentativo di risalire agli autori della furibondalite che ieri poco prima delle 20 si è scatenata nello spazio Deors del Caffè Europa, uno dei ritrovi più eleganti e frequentati della city catanese, ma che ieri inaspettatamente è diventato ring al cielo aperto per una violenta zuffa che più passano le ore. Poi appare come una vera e propria missione punitiva. In verità le notizie sono ancora frammentarie, sebbene il locale fosse particolarmente affollato sia per la giornata festiva che per l'ora. Pare che un giovane fosse seduto alla tavolina assieme ad alcune ragazze intendo a scambiare quattro chiacchiere sorseggiando uno drink quando si sarebbe materializzato uno gruppetto di 4-5 giovani che dopo un primissimo scambio di parole avrebbero cominciato a inveire immediato il passaggio alle vie di fatto, botte da orbi con oggetto condundente anche dei caschi per motociclista. Fuggi fuggi generale, c'è chi ha provato a fare desistere i condendenti ma senza riuscirvi, mentre andavano in frantumi piatti e bicchieri, oltre ad una lampada riscaldante finita pericolosamente intera e danneggiata. La scazzottata è finita solo quando i condendenti hanno sentito in lontananza le silene della polizia via dal campo di battaglia sia la presunta vittima che i presunti aggressori di cui al momento non si attraccia, malgrado gli agenti stiano proseguendo a visionare le immagini delle diverse telecamere posizionate in zona. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato intere famiglie, giovani, anziani, ancora scossi per quanto accaduto sino a pochi istanti prima, ma nessuno pare sin qui abbia saputo fornire indicazioni circa l'identificazione né capire il motivo che abbia dato il la alla rissa. Qualcuno ha parlato di scooter che si sarebbero allontanati a forte velocità, forse con a bordo alcuni dei protagonisti, altri hanno parlato di fuga a piedi. Successivamente si è avuto notizia che allo pronto soccorso del Carnizzaro una 29enne catanese è stata medicata alla testa per una ferita lacero contusa, suturata e stata tenuta sotto osservazione 10 i giorni di prognosi. La donna però non ha saputo fornire molti particolari in quanto si sarebbe trovata nel bel mezzo della rissa solo per caso. La modalità di quanto accaduto, il luogo, l'orario hanno creato non poco sconcerto. Disagio e paura. Siamo nelle mani di nessuno. I ragazzi oggi sono propriamente allo sbaraglio. Ecco, per un esercente cosa significa prendere questa notizia? Al di là del fatto, al di là del fatto, cosa significa? Insomma, c'è poca sicurezza? Che cosa succede? La poca sicurezza c'è sicuramente, però abbiamo avuto più paura per i clienti che per altro, quindi c'erano bambini, c'erano le famiglie, quindi niente, solo questo. Tra l'altro questa è una parte di Catania, tra virgolette, tranquilla. Infatti, non ce l'aspettavamo. Hanno inghiottito in cella delle pile, una addirittura, la scheda del televisore, poi non contenti, hanno sfasciato la stessa cella. Protagonista della vicenda, tre detenuti nel carcere minorile di Palermo, istituto in cui gli stessi detenuti, pare gli stessi detenuti, comunque tutti i marocchini, tra questi due maggiorenni, avevano dato fuoco alcuni giorni fa ad alcune suppelletti. La notizia è donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziario, quello che più sconcerta dice, l'assoluta assenza di provvedimenti da parte del Dipartimento della Giustizia Minorile. Inaccettabile lo scenario quotidiano in cui opera il corpo di Polizia Penitenziaria tra aggressioni rivolte ed altri eventi critici. Ci sono troppe e tutte inaccettabili le aggressioni all'organico della Polizia Penitenziaria, così il sappe. E adesso voltiamo pagina. Catania è la quarta città italiana per gradimento del clima secondo quanto pubblicato oggi dalla Sole 24 Ore nel consueto report annuale. La città di Catania, in una speciale classifica elaborata dalla Sole 24 Ore, si colloca al quarto posto in Italia, tra i centri con il miglior clima nella penisola, al primo posto Bari, in una graduatoria, che raggruppa le 107 città capoluogo, dove si vive meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di bel tempo. In Sicilia Agrigento invece al nono posto. Tra le città con il clima migliore, ma non con le migliori condizioni ambientali, spiccano le zone costiere, così come altri capoluoghi in quota e tra questi, oltre ad Aosta, anche Enna, dove migliora la circolazione dell'aria rispetto alle altre aree interne. Aumentano le ore di sole, con l'indice di calore che resta medio-basso, mentre si registrano pochi eventi estremi. A Siracusa aspetta invece il record di caldo. Nel capoluogo a Retuseo, nell'estate 2023, si è registrata infatti un'ondata di caldo eccezionale che ha fatto toccare il massimo storico di 47 gradi. Ma Siracusa ha anche il più elevato indice di calore, 111 giornate all'anno, con temperatura percepita superiore ai 35 gradi. Agrigento invece, nella classifica dei capoluoghi, è la prima per soleggiamento, con poco più di 9 ore di sole in media al giorno. Catania infine, con il minor numero di giorni l'anno troppo secchi o troppo umidi. Sono appena 111. L'orchestra sinfonica del Conservatorio Bellini di Catania partirà alla volta di Lubiana in occasione del 72esimo festival che si terrà nel prossimo mese di giugno. Eccola la locandina che annuncia uno degli eventi più attesi per il quale il Conservatorio Musicale Vincenzo Bellini di Catania si prepara da diversi anni. Gli ottant' elementi dell'orchestra, il prossimo 22 luglio, si esibiranno nel prestigioso festival di Ljubljana, capitale della Slovenia, che dal 20 giugno accoglierà orchestre di tutto il mondo, le migliori, che si esibiranno in ben oltre 90 concerti. Gli artisti etnei saranno diretti dal maestro Epifanio Comis. Oggi presente alla presentazione della Kermess, insieme con il presidente del Conservatorio, Carmelo Galati, e del direttore artistico del festival di Ljubljana, Darko Brleck, profondo conoscitore della cultura artistica e musicale etnea e particolare estimatore per lui parole di stima. Orgoglio per la presenza dei musicisti etnei. Si tratta di un grande valore aggiunto, ha detto, per la manifestazione che giunge alla sua 72esima edizione. Ha dichiarato soddisfatto. Certamente, avere oggi il direttore artistico del festival di Ljubljana, il più importante festival europeo, quantomeno europeo, se non addettura mondiale per le orchestre, per noi è un momento di grande importanza. Intanto dobbiamo essere contenti che i nostri ragazzi andranno a Ljubljana, suoneranno come avete sapevuto e sentito, tra il Maggio Fiorentino e la Scala, insomma, saranno ovviamente ospiti d'onore, sono ragazzi, cioè, sono ragazzi i quali si cimenteranno in un contesto internazionale di altissimo livello. Questo per loro sarà una spinta, ovviamente, ad essere sempre più bravi e porta avanti, ovviamente, la Sicilia, Catania e il Conservatorio Vincenzo Bellini, che quindi assume quella dimensione internazionale di cui avevamo detto già all'inizio del nostro insediamento, è stata la nostra mission. Quindi siamo felici, onorati, che addirittura il direttore di Ljubljana venga qui d'Arco e con noi e questo ci dà, vuol dire, una grandissima forza a proseguire e a continuare. E poi avremo in Serbo, come saprete, altre sorprese ancora più importanti. Un evento importantissimo per il Conservatorio Bellini di Catania perché la nostra orchestra sarà protagonista di un concerto di altissimo livello in un festival prestigiosissimo, uno dei più importanti d'Europa e si esibirà tra altre grandissime orchestre, quali la London Symphony, la Fila Armonica della Scala, il Maggio Musicale Fiorentino. Quindi è veramente un evento di altissimo valore artistico e culturale che pone il Conservatorio nelle altre sfere del concertismo. Ad Acireale consegnati i lavori di ristrutturazione dell'ex liceo classico Gulli e Pennisi, siamo in via Marchese di San Giuliano. Consegnati i lavori di riqualificazione dell'ex convento dei Dominicani, riconvertito al liceo ginnasio, in tempi più recenti ospitò anche la scuola media Paolo Vasta. Un pezzo di storia della città era chiuso in questo luogo che ha succhiato finanze pubbliche per 2 miliardi di lire con un progetto di riqualificazione risalente al 1991, ultimato solo in parte dichiarato inutilizzabile per gravi carenze strutturali, conseguenza di lavori eseguiti non proprio ad opera d'arte. Nel breve spazio di qualche manifestazione pubblica venne dichiarato in idonio e chiuso. Da decenni verse in stato di totale abbandono, una volta riqualificato, ospiterà un grande centro polifunzionale in un contesto di straordinaria bellezza architettonica a due passi dal centro storico cittadino. Una parte del complesso verrà assegnata all'ampliamento dell'Accademia Zerantea con la quale condivide la confinante corte. Nel corso del sopralluogo l'amministrazione comunale e l'impresa incaricata hanno ispezionato il locale e visionato il progetto che prevede inoltre la sistemazione degli spazi esterni, trasformando questo sito in un grande centro ricreativo multifunzionale in grado di ospitare più eventi contemporaneamente sia all'aperto che al chiuso disponendo di spazi idoni. Oper finanziate dal PNRR con un fondo di 7,5 milioni di euro inseriti nel programma di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città alla pari degli interventi di riqualificazione dell'ex convento dei carmelitani restituendo alla piena funzionalità due siti di grande interesse che una volta completati potranno ospitare iniziative congressuali e manifestazioni culturali di livello. L'assessore ai lavori pubblici Salvo Licciardello. Questa volta è la volta buona del nostro ex liceo classico Gulli e Pennisi. Un anno e mezzo di lavori da oggi e restituiremo alla città un vero e proprio gioiello dal punto di vista culturale e architettonico. Sono lavori di riqualificazione dell'intera struttura quindi il progetto per il quale oggi consegniamo l'appalto integrato, quindi progettazione e lavori è un progetto che prevede il completamento dell'intera struttura. La nostra azione sarà giornaliera di controllo e di verifica affinché tutto ciò avvenga nella perfezione di quanto previsto a progetto. La gara, chiarisce il sindaco Roberto Barbagallo, prevede un incarico di tipo integrato. L'impresa incaricata dei lavori si occuperà anche del progetto esecutivo accelerando i tempi di esecuzione e consegne dell'opera ad un anno e mezzo dal via. Finalmente anche questo corpo importante che negli anni ha anche avuto dei finanziamenti però con interruzioni che poi hanno portato al degrado che tutt'oggi troviamo in questa parte. Con questo finanziamento all'interno del PNRR avremo finalmente un'area museale culturale legata, che proveremo a legare alla Zalandea nel senso che proprio anche strutturalmente diciamo hanno anche la corte in comune, le entrate, quindi avremo un'area complessiva tra Zalandea e questa parte che verrà ristrutturata molto importante e fondamentale per la nostra città dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico. Calcio Serie C, la partita di campionato tra Catania e Giuliano in programma giovedì prossimo alle 20.45 al Massimino si giocherà a porte chiuse, è stato deciso dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a seguito degli disordini di Padova e intanto il Catania si lecca ancora le ferite della sconfitta, l'ennesima di campionato ieri a Torre del Greco contro la Turris. Quella della Catania è ormai una crisi irreversibile, i rossazzurri rischiano seriamente di scivolare nei play-out dopo l'ennesima sconfitta stagionale, la quattordicesima sul campo di Torre del Greco la distanza dalla stessa formazione corallina è di appena tre lunghezze dopo la battuta d'arresto maturata già nel corso di un primo tempo, inguardabile da parte della squadra di Zeoli pericolose le primissime avvisaglie con Scacca Barozzi che manda di poco alto sulla traversa poi sale in cattedra l'attaccante Giallo che regala un primo tempo da incubo ai sostenitori rossazzurri Marsuro è costretto ad uscire e a ricorrere alle cure ospedaliere, al suo posto entra in campo Cicerelli che non inciderà però più di tanto, i padroni di casa hanno più grinta e determinazione il risultato si sblocca al 22esimo quando scacca Barozzi, pesca in area Giallo, pronta ad approfittare delle unesime decisioni di Celli e abbattere facilmente Furlani con una conclusione da centro area la reazione della Catania si esaurisce nell'attentativo a giro di Cicerelli che Marcone sventa in tuffo mandando la palla in calcio d'angolo, i calciatori corallini arrivano però sempre primi sulla pallone e inevitabilmente matura il raddoppio con la doppietta di Giallo che sfrutta un'azione confusa successiva a calcio d'angolo controlla con il sinistro e batte imparabilmente di destro Furlan, Catania letteralmente in bambola che rischia anche di incassare il Tris con un'incertezza tra Boa e Furlan e Contec che salva sulla linea nella ripresa Zeoli cerca di rivitalizzare i suoi, entrano per alta i Cianci e la Tour si resta in 10 uomini per l'espulsione di Cocetta che si fa ammonire due volte nel breve spazio di pochi minuti il Catania accorcia le distanze proprio con un'azione confezionata dai nuovi entrati sul cross di per alta Cianci svetta di testa firmando l'1-2 gli ospiti e per mei ci provano con la forza della disperazione ma Marcone si destreggia bene sui tentativi di Cicerelli e Cianci mentre nelle finale per alta si libera al tiro ma manca il bersaglio mandandogli a pallone a fil di palo i campani badano soprattutto a perdere tempo esultando alla fine per uno successo importantissimo in chiave salvezza e adesso vediamo insieme le dichiarazioni di fine partita di mister Zeoli il momento è delicato e anche alcune scelte vengono fatte per coinvolgere più persone possibili tesserati del Catania che fino a qualche mese fa erano in Serie B anche anche un po' di ansia, di paura, di non riuscirci poi appena non hai più nulla da perdere ti liberi invece su quello che loro devono capire nel momento in cui la partita è su 0-0 provare a fare quelle poche cose che abbiamo provato e che loro sanno fare e invece c'è sempre quel timore, quella paura anche di una giocata semplice fare di più, se non vai sul fondo e crossi o qualche titolo da fuori area non potevi chiedere, qualche volta potremmo riempire un po' più l'area e crossare un po' prima, però penso che ne abbiamo fatti tanti e ci sono state anche tante situazioni dove potremmo pareggiare io ero convinto di pareggiarla anche alla fine tante squadre adesso stanno giocando sui nostri errori ed è questo che ti fa un po' pensare adesso pensiamo a giovedì a recuperare energie quattro giorni, sarà una partita anche questa importante anche lì ci sono in palio dei punti una squadra che è libera contro un avversario che è libero di testa che ieri ha fatto un grande risultato è una posizione di classifica ottima dunque noi dobbiamo recuperare soprattutto energie mentali e fisiche mentali amministrazione e consiglio comunale di Catania sempre più distanti il presidente del Parlamento cittadino Sebastiano Anastasi oggi ospite dell'intervista lamenta una carente condivisione delle scelte della Giunta Trantino ne parliamo questa sera appunto l'intervista, la trasmissione d'approfondimento condotta da Filippo Romeo l'ultimo caso, donoce il presidente del Consiglio solo qualche giorno fa in occasione di una seduta pubblica di question time con l'assenza di numerosi assessori e poi le molte decisioni dell'amministrazione comunale apprese dai consiglieri dalla stampa dai social alla spazio, anche alla situazione finanziaria del Comune al piano regolatore del Porto al documento unico di programmazione 2024-2026 collegata in diretta alla giornalista del quotidiano La Sicilia Francesca Aglieri Rinelli, l'appuntamento alle 20.30 dopo il telegiornale e replica domani alle ore 23 Eccoci in studio dopo lo spazio pubblicitario non ci sono altre notizie dalla redazione chiudiamo quindi il giornale con il meteo Le previsioni del tempo in Sicilia del 26 marzo anche la nostra regione sarà colpita dalla perturbazione che interesserà l'intero sud Italia con piogge da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale i venti saranno forti, meridionali soprattutto al mattino i mari mossi vediamo insieme adesso le temperature stazionarie le massime, un po' più alte le minime rispetto a quanto registrato durante la giornata odierna Ci fermiamo Termina qui questa edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento con Ora Tg domani alle ore 14 grazie per la vostra compagnia buon proseguimento di serata a voi tutti grazie per la vostra compagnia